A pochi giorni dalla fine dei lavori sul Ponte Vecchio arriva finalmente l'atto di indirizzo comunale per le celebrazioni che in sostanza attiva le varie aree del comune di Bassano per la predisposizione all'organizzazione e l'attuazione di un programma di manifestazioni e di eventi celebrativi che interessi la città nei prossimi mesi. A questo punto ci si chiede quale fosse il programma barra contenitore sbandierato dall'amministrazione di Elena Pavan visto che sembrava che il pacchetto di festeggiamenti e celebrazioni fosse ormai già cosa fatta. Ci si chiede anche come mai l'atto di indirizzo sia partito solamente ora ad aprire inoltrato come se la riapertura del ponte fosse una novità piombata sul municipio giusto una manciata di giorni fa e non una data importantissima che si conosce ormai da molto tempo. Poco importa infatti che la festa della riapertura si possa svolgere a maggio o a ottobre, quel che conta è che la giunta di Elena Pavan arriva sull'argomento con qualche mese di ritardo. L'unico dettaglio veramente positivo del provvedimento varato dal comune è il titolo. Si parla infatti di restituzione alla città di Bassano del Ponte Vecchio. Vuoi vedere che qualcuno si è reso davvero conto che il monumento nazionale non è del sindaco, non è dell'amministrazione, mai dei bassanesi, degli amanti del bello e della storia, del mondo intero? Sarebbe stato bello anche restituire alla città il potere decisionale sulla pavimentazione, magari, ma come si suol dire meglio tardi che mai. E stiamo parlando anche delle celebrazioni per chi non se ne fosse reso conto. Grazie. Grazie.